E' stato abbattuto ieri l'ultimo diaframma della Galleria Sant'Ambrogio, tappa fondamentale per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina. Con la caduta del diaframma si uniscono i due fronti di scavo della galleria consentendo il completamento di un tunnel lungo quasi 4 km scavato integralmente con metodo tradizionale sulla tratta Ogliastrillo-Castelbuono. I lavori rappresentano un ulteriore passo del polo infrastrutture del gruppo FS per il potenziamento della rete ferroviaria siciliana e sono stati affidati da RFI alla Toto Costruzioni Generali sotto la direzione Lavori di Italfer. L'evento completa una delle maggiori opere del cantiere di Cefalù e conferisce un nuovo slancio per il prosieguo degli ulteriori interventi previsti in galleria per poi passare agli impianti tecnologici. L'intervento complessivo prevede, oltre alla realizzazione della galleria Sant'Ambrogio, anche lo scavo meccanizzato della galleria Cefalù. La realizzazione della nuova fermata di Cefalù interamente sotterranea, la nuova stazione di Castelbuono, la soppressione di 5 passaggi a livello, nonché la messa in sicurezza della porzione di territorio in cui si inserisce l'opera attraverso la sistemazione idraulica dei torrenti. Il prossimo appuntamento sarà adesso l'abbattimento del diaframma della galleria Cefalù.